Medici in sciopero. Per 24 ore sia i medici di base che quelli ospedalieri incrociano le braccia. A promuovere il giorno di stop sono 20 sigle sindacali. I rappresentanti si sono ritrovati stamattina in piazzetta pescheria. Noi vogliamo soprattutto ritornare a fare i medici come siamo stati formati, come siamo stati abituati a fare da quando ci siamo laureati. Il nostro ruolo è quello di fare diagnosi, cura e soprattutto di fare prevenzione in un mondo, in una società come questa in cui la cronicità sta aumentando e solo attraverso la prevenzione possiamo sperare di ridurre i costi della sanità. Questo è il nostro ruolo. Invece con le leggi Balduzzi e con altre proposte fatte dal governo a livello regionale e in ogni dove siamo costretti a perdere più della metà del nostro tempo in peripezie burocratiche, in situazioni di informatizzazione assolutamente precaria, con continui cambi di software e continui cambi di impostazione su quello che è il nostro tipo di lavoro. Anche l'ospedale è ormai sovraccaricato di mansioni burocratiche che ci portano via tempo nella cura degli ammalati, per cui meno burocrazia, meno burocrati, meno imbonitori, più medici e più infermieri a letto del malato. È quello che noi andiamo dicendo da tanto tempo.